Si tratta più che di una sperimentazione, di una messa in opera concreta di quanto contenuto nella legge del buon samaritano. In effetti andiamo a sottrarre rifiuti e ridiamo vita sostanzialmente a dei cibi che vengono sottratti alle mense nei grandi centri di distribuzione e portati nella stessa giornata invece sulla mensa dei più bisognosi. Andiamo perciò ad assolvere contemporaneamente a diverse funzioni che è una funzione sociale innanzitutto, poi vi è una funzione economica perché i percettori di questi cibi evidentemente risparmiano perché se li ritrovano belli e serviti e per quanto ci concerne ecologica perché evidentemente abbiamo meno rifiuto in discarica e con ciò quindi diamo adempimento a uno dei nostri punti più importanti del piano rifiuti che è appunto l'abbattimento e noi speriamo oltre il 3% della produzione pro capita dei rifiuti.